che mi pare importante da mettere in evidenza quando si ragiona sulla identità e mi spingo a dire che meglio sarebbe dire sulle identità perché l'identità proprio come la cultura esiste necessariamente sempre solo al plurale come rapporto di identità differenti. Chi invoca l'idea di un'unica cultura planetaria o di un'unica identità indifferenziata globale in realtà sta producendo una figura intrinsecamente contraddittoria per il fatto che la cultura come l'identità esiste solo nella relazione tra culture e identità differenti che si riconoscono e instaurano una relazione di riconoscimento. Possiamo dire con le bellissime parole di un gigante della filosofia moderna e contemporanea, Herder, che la pluralità delle culture, dell'identità delle lingue è il modo con cui Dio cammina nella storia degli uomini. Non stupisce che oggi nel tempo profeticamente annunciato da Nietzsche della morte di Dio si assista in paritempo alla morte delle culture, dell'identità, delle lingue e prevalga ovunque indistinto il profilo neutro anonimo del consumatore, dell'io narcisista, individualistico, privato di ogni appartenenza culturale, identitaria, comunitaria, che si sente in qualche modo atomo autofondato, pur a causa sui, indipendente da ogni identità e da ogni relazione con i luoghi, con i territori, con le tradizioni, con le comunità. Abbiamo, se volessimo ragionare in termini generali, abbiamo tre figure antropologiche che a mio giudizio al meglio rispecchiano la figura del nuovo individuo post-identitario, l'individuo vacus et cosmopoliticus, potremmo anche chiamarlo, e sono tre figure apparentemente diversissime, inconciliabili fra loro, e in parte lo sono, ma che diversamente esprimono la medesima tendenza disidentificante della globalizzazione. Queste tre figure sono quella dello start-upper cosmopolita, del migrante apolide e dello studente della generazione Erasmus. Che cosa avranno in comune queste figure così diverse? Il fatto che sono in perpetuo movimento, sono figure post-identitarie, sono figure che hanno reciso ogni legame con i luoghi e con i territori. Pensate alla figura dello start-upper cosmopolita che, senza avere alcun rapporto con i luoghi e con i territori, semplicemente si muove di moto browniano nel mercato globale, cercando di fare la propria fortuna, come un novello Robinson Crusoe, in giro per il mondo, poi torna eventualmente nel suo paese d'origine a raccontare la propria sasse story e a mostrare ai connazionali quanto stato sia erroneo pretendere di rimanere legati ai territori, alle comunità e alle identità. Non diversamente sotto questo profondo,